Un bilancio di questo 2023 in primis prima di un cambiamento, una rivoluzione in vista dell'arrivo della tariffazione puntuale? Sì, il nostro bilancio è stato dettato dalla semestrale in termini economici e finanziari. Il risultato è soddisfacente, abbiamo un risultato di esercizio semestrale positivo, ma quello che ci fa più sperare è il lavoro svolto a Carapollo. A Carapollo siamo riusciti ad avviare tutte le attività dirette al centro di riciclo, finanziato anche questo con i fondi del PNRR e spero di potervi dare a breve la notizia che riusciremo ad aprire anche la mattina. Che sarebbe appunto un venire incontro anche alle esigenze dei cittadini? Sì, perché noi cercheremo in qualche modo di mediare tra quella che è la richiesta degli operatori rispetto alla richiesta del singolo cittadino. Avendo anche l'apertura mattutina riusciamo a mitigare tutti quelli che sono gli interventi di grossa portata che procurano gli operatori rispetto alle singole attività che svolgono i cittadini in ritardo oppure con delle particolari esigenze quotidiane. Oggi si presenta il calendario 2024, ci sono delle novità particolari? Sì, la novità più che dettata dalla metodologia, che è sempre migliorabile e noi lo faremo anche l'anno prossimo, piuttosto dalla tecnologia che andremo ad utilizzare. Nel senso che tra le tre misure del PNRR di cui siamo destinatari, una è relativa alla tariffazione puntuale, cosa vuol dire? Vuol dire che riusciremo a digitalizzare il mastello, il mastello avrà un codice a barre, l'operatore avrà un rilevatore e tutto ciò ci permetterà di avere l'informazione immediata non al resoconto, cioè a ciò che viene poi portato presso il nostro centro di trasferenza, ma lì sul posto avremo effettivamente il riscontro di ciò che si produce, ciò che si smaltisce, il modo e le quantità. Questo permette di avere, oltre al dato certo, anche la possibilità di migliorare il nostro servizio. E di pagare effettivamente quanto poi si smaltisce. Sì, certo. Spero che sia diretto a quello, nel senso che noi nell'anno 2024 faremo una raccolta puntuale cercando di avviare un percorso. Questo percorso noi speriamo che porti ad avere una qualità dell'ambiente diverso in modo da poter premiare chi si comporta in maniera virtuosa. Obiettivo l'ultima stella polare è ovviamente anche l'attesa della nascita del biodigestore. Sì, il biodigestore ci permetterà di avere un riscontro al buon lavoro che viene fatto, nel senso che noi abbiamo la certificazione da parte degli impianti nei quali smaltiamo il nostro rifiuto organico di un'ottima qualità di rifiuto organico. Tutto ciò ci fa ben sperare perché questa ottima qualità vuol dire mettere a frutto attraverso un riscontro in termini di biogas, biometano, vedremo qual sarà il risultato finale in base alla progettazione dell'impianto, di mettere a frutto ciò che è la qualità del digestato, di ciò che è il rifiuto umido che porteremo in impianti.